Un giovanotto dal bel aspetto e dalle movenze insospettabili con fare disinvolto ha strappato una ricarica della postpay da 400 euro e poi con un espediente ha guadagnato la porta e se l'è data a gambe. A farne le spese di questa spiacevole disavventura alcuni giorni fa la titolare del bar tabacchi da lori sulla nazionale poco prima del semaforo del Lido. Non sempre essere attenti e meticolosi e con tanta esperienza alle spalle basta per premunirsi e tutelarsi nei riguardi dei truffatori e per quanto sul che va là si possa stare alle volte si soccombe. Questo signore carino, elegante, educato che è entrato e ci ha chiesto di fare una ricarica postpay come ci capita spesso e quindi noi come di solito abbiamo chiesto come di procedura la tessera della postpay per inserire il numero nella nostra macchina e poi il codice fiscale. Corrispondeva al suo nome e tutto quanto così ci ha detto. Quindi era munito di tutta la documentazione necessaria. Ho chiesto l'importo, l'importo era abbastanza alto, 400 euro, tant'è che ho chiesto alle banconote con sé e mi fa sì e le aveva in mano, effettivamente aveva un bel mazzetto di carte. Mi sembrava da 50 e da 20 euro. Quindi io ho dato la conferma, ho detto ce li può dare per favore e questo signore li ha contati, io ho dato l'ok, quindi la ricarica postpay è partita. Lui ha contato questi soldi dicendo che gli mancava 50 euro circa, è indietreggiato, si è avvicinato alla porta per prenderli in macchina dicendo ecco. E invece ho intuito, infatti gli sono corso dietro dicendogli guarda ci sono le telecamere e invece lui aveva fuori, si chiama il palo, come nei film, un complice che era con la macchina in moto, lui è salito e sono fuggiti. Purtroppo per la titolare oltre alla beffa resta anche il danno perché la compagnia bancaria da lei interpellata purtroppo le ha comunicato che anche in presenza di una denuncia la transazione è valida. Le immagini delle telecamere interne sono chiare, il truffatore entra anche in presenza di altri clienti, mostra abilmente i soldi in mano e porge documenti irregolari. Aspetta che la transazione vada a buon fine e poi anziché consegnare i soldi con una mossa fulminea esce e si dà alla fuga ad attenderlo, motore acceso, un complice in auto. Ora su questo ed altri diversi episodi simili stanno indagando gli agenti del commissariato di Fano, ai quali questo individuo non è nuovo e che ci assicurano verrà perseguito secondo i termini di legge vigenti in materia di truffe.